Gara sofferta per l'Arezzo calcio femminile che conquista l'ultimo respiro il 2 a 2 con la Ternana. In apertura spingono le aretine e vanno vicine al gol. Al venticinquesimo l'Arezzo passa con Nisci, la quale conclude nell'angolino al termine di un'azione condotta da Costantino e Razzolini. Prima della ripresa c'è il tempo per un'altra occasione ghiotta per le ragazze aretine, ma il tiro si spegna lato. Nel secondo tempo preme ancora l'Arezzo, ma spreca così con un tiro impreciso. Ci prova la Ternana, maglia bianca con la numero 19 che manca il bersaglio. 51esimo, sbarione difensivo clamoroso degli Amaranto che peggiorano la cosa con un evidente fallo in area di Ferretti. Calcio di rigore ed è gol di Coppia, 1 a 1. Si fa di nuovo sotto l'Arezzo, ma il tiro è debole, è ben intercettato da Monei. A tre minuti dal termine arriva la doccia fredda per l'Arezzo, fallo di mano in area di Ceccarelli e di nuovo rigore e dagli 11 metri ancora copiano, sbaglia per l'1-2. Sembra arrivare la prima sconfitta della formazione di Testini, ma gli Amaranto non molano e al novantesimo acciuffano il pareggio con la Capitana Verdi, brava a incrociare di destro battendo Monei. Secondo pareggio casalingo di fila per l'Arezzo, calcio femminile. È stata una partita difficile, tosta, lo sapevamo, che era comunque una gara dove la Ternana era una squadra organizzata, quindi eravamo preparate e poi dopo il campo è un'altra storia. L'abbiamo riagguantata all'ultimo, quindi il punto ci sta stretto perché comunque noi lottiamo tutte le domeniche per vincere, però prendiamo quello che viene oggi. Si può dire anche una cosa? Avevamo detto che è un campionato molto, estremamente difficile. Anche la Ternana oggi ha dimostrato di stare bene in campo. Esatto, non ci sono partite scontate perché dalla prima alle ultime sono squadre toste, agguerrite, messe bene, quindi nessuna partita ha il risultato scontato come era invece l'anno scorso, dove alcune partite erano un po' più semplici, fra virgolette, questo è un campionato fortunatamente equilibrato perché è anche più divertente da giocare. Ci credeva mister fino all'ultimo? Ma sì, ma noi ci crediamo sempre, alla fine la prestazione la tiriamo sempre fuori. Io credo che abbiamo fatto un primo tempo di grande livello, giocando un gran bel calcio, considerando tutto quello che poteva essere la qualità della squadra avversaria, le difficoltà che ci potevano essere. Il nostro portiere, io non ricordo che abbia fatto interventi o parate che uno possa dire ok, ci hanno messo in difficoltà, quindi la prestazione c'è stata, la prova delle ragazze è stata una buona prova, abbiamo fatto degli errori, li abbiamo pagati a caro prezzo, spero che questo qui serva proprio a capire che in questo campionato bisogna rimanere concentrati per i 90 minuti e per 30 partite perché purtroppo basta veramente poco per poi trovarsi a giocare a delle partite come questa qua dove vanno recuperate poi oltre al novantesimo perché altrimenti avremmo perso.